Il Consiglio Comunale di Santa Venerina ha nominato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti per il trenno 2018-2021. Al bando pubblicato dal Comune avevano risposto in 193 entro i termini, 184 le richieste ammesse e 9 quelle escluse. Alla nomina si è provveduto mediante sorteggio pubblico. I tre revisori estratti sono Andreana Minuti, Di Pace del Mela, Rosario Gennaro di Paternò ed Angela Grasso di Mascali. La nomina dei tre revisori sorteggiati sarà convalidata dopo aver verificato il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda e nel curriculum vite da ognuno di loro. Nella stessa seduta si è provveduto ad estrarre a sorte altri sei nominati da utilizzare nel caso in cui qualcuno dei tre estratti non accettasse e non avesse requisiti dichiarati. I sei supplenti sono Rosa Leone, Stefano Composto, Francesco Chipinti, Enza Marchisa, Stefano Pirrone e Giuseppe Cassarino. Il sindaco Salvatore Greco ha così commentato, esprimo gratitudine per il lavoro prestato dai componenti del collegio uscente, Rosario Sorbello, Alfio Patanè e Vita Alba Sorbello. Al nuovo collegio rivolgo l'augurio di trovare una proficua intesa al suo interno per esprimere nel modo migliore il loro servizio nell'interesse del comune. Nella stessa seduta sono stati eletti i componenti della commissione elettorale comunale, eletti i consiglieri Alfina Marino e Giuseppe Grasso della lista di maggioranza Avanti Così e Giovanni Russo della lista di minoranza scelta libera per Santa Venerina, membri supplenti Salvatore Orazio Di Bartolo della lista di minoranza scelta libera per Santa Venerina, Valeria Rapisarda e Salvatore Contarino della lista maggioranza Avanti Così. Eletta anche la commissione comunale per la formazione degli albi dei giudici popolari, che sarà costituita dai consiglieri Maria Assunta Vecchio della lista di maggioranza Avanti Così, che ha ottenuto 7 voti ed Orazio Liveri della lista di minoranza scelta libera per Santa Venerina, che ha totalizzato 4 voti.